Fulvia Fraliciardi si è parlato in un interessante convegno del rapporto tra l'alcolismo e il mondo dei giovani. Il convegno sui giovani è nato in pochi giorni perché durante la Pasquetta una nostra amica aveva prestato la campagna ai ragazzi per utilizzarla come si fa in tutte le Pasquette. Poi si è affacciata quasi per gioco e si è trovata davanti delle scene allucinanti per noi genitori, ragazzine di 12-13 anni con le bottiglie di vota in mano dietro i cespugli che si sentivano male. Questo convegno è il terzo sull'educazione, noi avevamo già l'intenzione di parlare di un altro tema, perciò in corsa abbiamo cambiato argomento. In corsa ma devo dire la verità con la disponibilità di tantissimi amici del dottor Manzo che ha fatto un intervento splendido, della psicologa, la dottoressa Di Florio, di Don Giuseppe Rosoni. Tutte persone che ci stanno molto vicino in questo percorso che già da anni facciamo con questo appuntamento fisso a maggio del convegno sull'educazione. Tra l'altra cosa la partecipazione è stata ampia, soprattutto tra i più giovani, questo è un segnale positivo. Per questo dobbiamo ringraziare l'avvocato Alessandro Giorgi che ha lavorato tanto con i ragazzi del liceo e ha portato le loro testimonianze qui. Adesso poco fa una ragazza ha parlato e noi genitori ci siamo sentiti tutti chiamati in causa perché ci siamo resi conto di come i giovani chiedono a noi genitori di riapproparci del nostro ruolo. Basta di fare gli amici, i genitori non devono essere amici, devono essere i genitori. La cosa bella è che è stata questa giovanissima ragazza che ha partecipato, Martina, che ci ha pungolato proprio su questo argomento.